Voi stessi siete vittime di argomentazioni ad hominem tutti i giorni. Frasi del tipo, siete controottisti, paranoici, sciocchimisti, cattolici, conservatori, tradizionalisti, reazionari, etrodoti, eccetera, eccetera, quindi le vostre tesi sono errate, sono argomentazioni ad hominem. O in particolar modo, capirato anche a me, sentimi dire questa cosa, se credi nel signoraggio allora sei fascista. Altre volte mi siete dovuti giustificare dall'accusa di essere omopoti, perché non siete d'accordo con i diritti LGBT, di essere nazisti se siete contro l'immunicazione, di essere antisemiti e nazisti se siete contro lo strapotere di certe persone di origini ebraiche, come dei crimini del governo di Israele. Addirittura il professor Vattimo, comunista, per avere detto che Rothschild e Rockefeller possiedono la Federal Reserve, è stato accusato dal capo della comunità ebraica italiana di essere antisemita, e è stato chiesto di chiedere scusa. La stessa cosa gli è successa, più o meno, quando ha detto mezza parola contro Israele. Bene, da oggi sapete come rispondere. A prescindere da come la penso io su certi argomenti, è giusto che voi sappiate, nel conto argomentare, qualora si presenti un'argomentazione di questo tipo. Però, nei prossimi video vedremo un po' come voi stessi usate argomentazioni di questo tipo contro gli altri. Anzi, meglio ancora, che come buona parte delle vostre idee derivino proprio da questo tipo di errore. Non perdetevi il prossimo video. Alla prossima! Ciao! 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 Ciao!